cari amici sono Paolo Ruffini e sarò il 3 e 4 settembre al teatro di Valleggia al premio Quiliano Cinema e vi aspetto lì, vi aspetto tutti quanti, c'è l'occasione bella per parlare un po' di cinema che ricordo è un'industria, un'arte ma è anche un luogo quindi no bello sempre ricordarlo perché se no poi uno fa i film ma fa un film che poi non vede al cinema invece il cinema pensate, il cinema è l'unica arte che è anche un posto, penso che cosa meravigliosa che inventò l'uomo, questa occasione non social ma sociale che è il cinema, una cosa fantastica il cinema per me è un amico caro per cui insomma cercheremo di parlarne bene, cercate di parlare bene del cinema ma sono sicuro che ci vedremo proprio al teatro nuovo di Valleggia a parlare bene di cinema e il cinema di solito è in orizzontale quindi è così, ecco io adesso voglio fare il video in orizzontale e quindi vi destabilizzerò, ecco anche quello, cominciamo a parlare come il cinema, facciamo i video in orizzontale non in verticale così ma in orizzontale perché il cinema è orizzontale quindi adesso che vi ho destabilizzato con l'orizzontalità e la verticalità di questo video ci vediamo il 3 e il 4 di settembre al teatro di Valleggia per il premio Quiliano Cinema, vi aspetto, ma vi aspetto in orizzontale